per vivere felici miei cari e buoni amici non ci vuol proprio nulla la calma la pazienza un poco d'esperienza e un sogno che ci culla sperando nelle domani miglior felicità con la cartella d'una lotteria ed un pochino poi di fantasia per qualche mese ti potrai sognare che la ricchezza sta per arrivare se la speranza in questo mondo è tutto con poche lire la si può acquistare con la cartella d'una lotteria pensando chissà di debiti perduti i debiti scaduti ne abbiamo tutti quanti perfino le potenze sono pieni di scadenze eppure vanno avanti però che bella cosa poterli liquidare con un biglietto della lotteria comprato a pochi soldi sulla via ai creditori lo si può mostrare dicendo loro al fin di pazientare e i creditori con la bocca asciutta dovranno in fin dei conti dire beh speriamo bene nella lotteria se altro non c'è e se la sorte non sarà propizia un'altra volta la si può tentare si fanno tante tante lotterie domani quissà qui sapete qui sapete